e un vero terremoto in Endless Love. Vildan, distrutta da un segreto che non può più nascondere, esplode in un momento di pura follia e colpisce Zeynep con una violenza inaspettata, lasciandola in fin di vita. Ma questo è solo l'inizio. Cosa accadrà ora? Zeynep riuscirà a sopravvivere o il colpo fatale di Vildan segnerà davvero la sua fine? Quando Kemal sta per consegnare Zeynep alla giustizia, un dettaglio inquietante lo costringe a fermarsi. E se la vera assassina di Ozan fosse un'altra persona? Nulla è come sembra, e le prossime rivelazioni cambieranno ogni cosa, preparati a scoprire una verità ancora più scioccante di quanto avresti mai immaginato. Nel frattempo, Akan si reca da Vildan per chiederle di firmare l'autorizzazione all'autopsia già firmata da Nian, necessaria per l'inchiesta sull'ipotetico omicidio di Ozan. Alla notizia dell'indagine, Vildan va in crisi nervosa. Emir rientra nell'appartamento e trova Asu, ma Zeynep è scomparsa. Asu non ha idea di dove si trovi. Emir ordina a Tufan di rintracciare Zeynep. Vildan legge una lettera di Zeynep in cui spiega ai genitori i motivi della sua fuga, ovvero il fatto di aver ucciso Zeynep. Prima di continuare, se vorresti ricevere in anteprima, le nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi in sì nei commenti. Riprendiamo. Presa dal rancore e dalla voglia di vendetta, prende una pistola e si reca verso il molo dal quale sta per salpare una barca che porterà via Zeynep. Nel frattempo Ayan riceve una telefonata da un informatore il quale lo avviserà che una barca sta partendo, con un solo passeggero, capisce quindi che si tratta di Zeynep e segnala l'indirizzo a Kemal che lo segnalerà poi a Nyan. Giunti tutti e tre sul posto, con grande sorpresa dei presenti, Vildan tirerà fuori la pistola per vendicarsi di Ozan e nella colluttazione con Nyan che vuole impedirle di sparare, partirà un colpo che centrerà in pieno Zeynep che cade a terra incosciente. Nella disperazione, Kemal porta Zeynep in ospedale dove la opereranno e la dichiareranno fuori pericolo. Vildan deciderà di andarsi a costituire alla polizia. Mentre Zeynep lotta per la sua vita, Nyan decide di andare alla polizia e confessare quanto è successo. Dai rilievi effettuati sulla pistola risulta che è stata Vildan a sparare il colpo che ha ferito Zeynep. Quest'ultima viene dichiarata fuori pericolo e al risveglio decide di non sporgere denuncia contro Vildan, dichiarando che si è trattato di un incidente, così dopo pochi giorni di detenzione la donna può far ritorno a casa. Appena dimessa, Zeynep viene portata in centrale per essere interrogata sulla morte di Ozan. Emir scopre che l'incidente di Nyan non è avvenuto per caso, qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile. Per questo motivo, decide di incaricare Tufan di rintracciare chi ha compiuto l'atto e chi lo ha mandato. Gurkan, d'altro canto, si rende conto di quanto sia pericoloso il suo comportamento e chiede ad Asu di dargli qualcosa di più. Tarik è in preda all'ansia, preoccupato che Kemal possa arrivare a scoprire la verità sulla morte di Ozan. Akan porta Zeynep in centrale, ma Emir trova il modo per parlarle prima che cominci l'interrogatorio e le dice esattamente cosa dovrà riferire al commissario. Akan le propone di sposarlo e in cambio lui la proteggerà da Emir, sebbene Zeynep accetti il suo atteggiamento continua a rimanere ambiguo. La ragazza alla fine viene rilasciata in attesa degli esiti dell'autopsia. Il destino di Tarik è appeso a un filo, e mentre Feime affronta Vildan e Nian, quest'ultima non sembra disposta a rinunciare a Kemal. Ma cosa succederà quando Kemal scoprirà il contenuto della lettera che potrebbe cambiare tutto? Le indagini di Zeynep e Ayan promettono rivelazioni esplosive. Se vuoi scoprire cosa accadrà, scrivi in sin nei commenti. Iscriviti al canale e lascia un bel mi piace.